Buongiorno a tutti, sono Metrobai e lavoro in questa azienda dal maggio del 1990. Nel tempo ho svolto più mansioni, sono stato assunto come magazziniere. Dopo qualche anno mi hanno dato la possibilità di cambiare. Nell'ufficio Quisti si era liberata una posizione e lì ho avuto modo di vedere l'iter tipico dell'ufficio. Dal 2001 sono ritornato all'ufficio Quisti e gestisco da ormai 21 anni in questo ufficio. Se penso a qualcosa divertente sono diversi gli episodi ma uno lo porto ancora nel cuore. Era l'anno che l'azienda raggiungeva un traguardo importante e soddisfacente, il suo cinquantesimo. Si respirava un'aria di festa e non mancavano i complimenti e congratulazioni da parte dei formatori. Uno in particolare aveva intuito il gioco di squadra che c'è ancora oggi nei nostri ambienti. E pensate, in quell'occasione ha voluto complimentarsi con tutti i dipendenti dell'azienda regalando delle confezioni di grano padrano. Un gran bel gesto direi che rese felice tutti. In questi anni i momenti di difficoltà non sono mancati direi. Ricordo ancora oggi la grande preoccupazione che ho vissuto nel 1992 dove la crisi economica costrinse dall'ora Thermobull ad aprire la cassa integrazione. In quegli anni io e la mia compagna avevamo deciso di sposarci. Capite bene che con quella situazione ci ha spezzato parecchio e comunque in poco tempo fortunatamente tutto si è risolto al meglio. Alla domanda mi sento motivato e ben inserito? Posso solo che rispondere sì. Ho cercato di mettere sempre tutta la passione in quello che svolgo ma la mia grande fortuna è che faccio un lavoro che mi piace parecchio.